La situazione della zona industriale di Ragusa è davvero drammatica, impossibile continuare a lavorare in queste condizioni. E prima di prendere decisioni forti, si spera che dall'incontro con il prefetto vengano fuori soluzioni valide. E perentorio l'intervento del Consiglio di Amministrazione del Parco Commerciale Isole Ible è riunitosi d'urgenza dopo i nuovi episodi di microcriminalità registrati la scorsa settimana nella zona industriale. Il presidente Gianni Corallo in particolare punta il dito contro l'IRSAP, l'Istituto Regionale di Sviluppo e Attività Produttive, subentrato alle ASI e che anziché garantire lo sviluppo sta creando disagi alle aziende lasciate allo sbando. Mancano i servizi più essenziali, l'area è totalmente al buio, le strade dissestate, la segnaletica è inesistente. Il Consorzio Isole Ible denuncia la mancanza di un impianto di videosorveglianza che, nonostante sia costato oltre 1.600.000 euro, non è mai stato reso operativo. Eppure l'IRSAP ha fatto un piano di investimento per quasi 18 milioni di euro per dotare di videosorveglianza le zone industriali di Catania, Gela, Carini, Termini, Imerese. Di Ragusa nessuna traccia, nemmeno un centesimo è stato destinato per risolvere il suo problema. In attesa di soluzioni, il CDA di Isole Iblee ha anche messo a disposizione delle aziende insediate nell'area industriale un indirizzo al quale segnalare le proprie difficoltà.